Sono Giussi Cimino, sono il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Gym Tonic, con sede a Canigatì in via Cipro numero 33. Ho cercato di improntare la filosofia di Gym Tonic sul benessere, il benessere a 360 gradi. Noi istruttori che lavoriamo, che siamo qua dentro, accanto ai nostri soci, diamo il meglio di noi stessi, lavoriamo insieme a loro, studiamo insieme a loro, soffriamo insieme a loro e siamo felici dei risultati che alla fine loro raggiungono. Gym Tonic si rivolge a tutti, dai bambini fino agli ultrasettantenni. Noi offriamo una vasta serie di corsi che vanno dal karate alla ginnastica dolce per gli anziani, a tutti i protocolli di lavoro di dimagrimento, di forza, di ipertrofia e di mobilità. I soci di Gym Tonic sono seguiti passo passo dal momento in cui entrano all'interno dell'associazione fino a quando escono. Siamo bravissimi a viziarli, a coccolarli, ma siamo anche altrettanto bravi a farli sudare e a motivarli per raggiungere i loro obiettivi. Non augurarti che sia più facile, ma augurati di essere più forte. Grazie!